Interviene Mino Borraccino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Paradossale decisione dell'Università di Bari di sospendere le lezioni di medicina Taranto. Con una pecca urgente al rettore dell'Università Aldo Moro, professor Stefano Bronzini, ho espresso il mio rammarico e la mia delusione, a nome sicuramente, di tutta la comunità ionica per la decisione di sospendere le lezioni del corso di laurea in medicina e chirurgia Taranto. A distanza di pochi giorni dall'avvio delle lezioni, tale decisione è inspiegabile, visti gli sforzi che sono stati fatti nel territorio ionico per ampliare l'offerta formativa, istituendo a Taranto una facoltà strettamente legata ai gravi problemi sanitari che incombono sulla città. È stato e resta questo l'obiettivo che ha generato gli sforzi congiunti del Comune, della Regione e dell'Università Aldo Moro per promuovere la nascita di medicina e chirurgia, attesa con entusiasmo e speranza dalla città di Taranto. Ebbene addolora il fatto che la decisione di sospendere le lezioni a Taranto sia stata presa senza un preventivo confronto con il Comune, la Regione e l'intera comunità ionica. Concordo col Sindaco di Taranto nel chiedere concretezza e atti formali per assicurare che il corso parta dal 2021 e non in un vago prossimo futuro. Propongo anzi che il Consiglio Comunale da Taranto promuova un'iniziativa pubblica in tal senso, allargata ai sindaci dei comuni della provincia, che abbia il duplice obiettivo di richiamare ciascuna istituzione alle proprie responsabilità e di sollecitare l'opinione pubblica a fare proprie le ragioni che impongono che a Taranto nasca e cresca la Facoltà di Medicina. Dopodiché sarà necessario un piano di rilancio della proposta che deve scaturire da un confronto tra tutte le parti in causa, ciascuna delle quali deve assumersi precisi impegni. Ma una cosa deve essere certa, Taranto, questa città afflitta dai gravi problemi sanitari noti a tutti, conclude così Borracino, non può rinunciare né ai presidi sanitari efficienti e all'avanguardia, né alla formazione in loco di professionisti che si confrontino già nel corso degli studi con la dura realtà di questa città.